Musica Oggi ci troviamo a Campobello di Mazzara, comune trapanese, noto per la produzione di olive da menza, dove i professionisti del territorio impiegano tutte le proprie esperienze e conoscenze, rendendo questo prodotto DOP unico al mondo. Da qui nasce il bisogno di un trince dalle dimensioni imponenti e dalle qualità impressionanti, il trince Zanon TMS 1850, che scopriremo oggi insieme al nostro amico Giuseppe Scavuzzo, imprenditore agricolo noto a Campobello di Mazzara. La TMS 1850 è una macchina studiata per essere applicata ad un trattore di media e alta potenza, dai 60 ai 110 cavalli, da almeno 27 quintali di peso. In questo caso la possiamo vedere all'opera con questo fantastico Kubota M5091 DTN Narroble, chiamato anche Bassotto. Come si può vedere, questa macchina si presta in modo eccezionale per la triturazione di tralci di potatura dell'olivo che variano da 1 a 12 cm di diametro e di qualsiasi tipo di piantagione. L'oliveto è un legno di natura molto duro e resistente, ed ecco come con semplicità questa macchina riesce a triturarlo in piccoli pezzi. Il trincia è dotato di una robusta struttura in acciaio e di un rotore bilanciato elettronicamente, montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protenti. Una delle particolarità importanti di questa macchina è proprio la bocca anteriore, alta dal suolo 30 cm, che ne permette l'entrata di sarmenti in modo graduale e continuo, facendo sì che il trincia possa triturare tutto ciò che incontra, anche raggruppandolo in filiari sostanziosi, come potete notare in questo video. La sua imponenza però non presenta un ostacolo per i movimenti, che sono sempre agili senza impegnare troppo l'attenzione all'operatore, dove in questo caso la macchina presenta una larghezza di taglio di 1,85 m e una larghezza totale di 2,05 m. Naturalmente la macchina viene fornita di serie con le slitte di appoggio, lo spostamento meccanico, ma è possibile aggiungere a richiesta lo spostamento idraulico o le ruote in ferro e in gomma. Una velocità di circa 4 km orari garantisce un lavoro ottimale quando si effettua una trinciatura di grossi arbusti. Nel caso invece siano presenti sarmenti di diametro che variano da 1 a 8 cm di diametro, è possibile aumentare la velocità e raggiungere 7 km orari. Mi chiamo Giuseppe Scavuzzo, un agricoltore di Campobello di Mazzara. Ho acquistato il trincia Zanon TMS 1850 circa due anni fa, con questa è già la seconda nata che riesco a trinciare veramente la qualunque. Sono veramente contento perché senza nessuna protezione aggiuntiva, ancora tutt'oggi non ha nessuna ammaccatura e nessuna bolla sulla sua struttura. Sei sicuro di aver visto tutto quello che può fare? Richiedi la prova al tuo partner che sarà capace di ascoltare le tue esigenze.